Il pensiero del giorno In studio Chiara Giaccardi, docente di sociologia e antropologia dei media all'Università Cattolica di Milano. È mattina, apriamo gli occhi e apriamo anche le mani. Se non sai che fare delle tue mani, trasforma le incarezze, ha scritto qualcuno. Ci sono tanti modi di toccare. Si può afferrare, trattenere, disciplinare. Oppure accogliere, accompagnare, offrire in dono una vicinanza discreta. Un messaggio che parte dalla superficie, ma arriva nel profondo e ci rimane. Ho sentito una carezza sul viso arrivare fino al cuore, scriveva Neruda. È mano che si fa voce e dice che un senso esiste, che si può avere fiducia. È gesto di cura che fa crescere la sapienza del corpo. E insegna un linguaggio di tenerezza, compassione, pace. Per Leonardo Boff la carezza è una mano rivestita di pazienza, che tocca senza ferire e ci restituisce la nostra umanità perduta. Un gesto che è anche rivoluzionario. E bastava una inutile carezza a capovolgere il mondo, scriveva Alda Merini. Invece un bambino che cresce senza una carezza, indurisce la pelle, non sente niente, neanche le mazzate, ha scritto Henry De Luca. Le carezze non ricevute lasciano voragini, che si cercherà di riempire male. Quel che mi duole sono quelle cose belle che mai esisteranno. Quale sonno non mi ha lasciato dormire? Quale carezza non ha voluto parlarmi? Così Pessoa. Ma se sappiamo ascoltare, c'è una carezza per tutti. Lo dice Papa Francesco, nella Laudato Si. Tutto l'universo materiale è un linguaggio dell'amore di Dio, del suo affetto smisurato per noi. Suolo, acqua, montagne, tutto è carezza di Dio. Anche la misericordia è una carezza, dice ancora il Papa. E pregare è ricevere la carezza di Dio, la carezza che ci tiene in vita. Una vita che non è sopravvivenza, ma libera e gioiosa pienezza. E così, scrive Alda Merini, Se mi appoggio alla tua mano pura, mi si leva dentro l'alba, dentro si alza il cielo.